ecco perché non si arrivava più adesso dimmi che cinema hai messo città fiera non è città fiera è da un'ora e più che saremmo già arrivato in città fiera un'ora guarda cosa c'è scritto Bologna siamo a Bologna un'altra giornata è andata dispersa lo sapevo perché lei ha messo perché lei ha messo perché la mamma ha scritto cinema e non ha sbagliato a Bologna c'è un'altra città fiera scritta vabbè dai adesso andiamo dentro in autogrile e poi risolviamo bene dai